Amici del Capitale Immobiliare, benvenuti a questo nuovo video. Sono Alessandro e oggi vi propongo un trilocale in vendita di 87 metri quadrati in zona Piazzale Martini. L'appartamento si trova al primo piano, è presente il servizio di porteria part-time e ovviamente l'ascensore. Benvenuti nell'appartamento, è presente il videocitofono, partiamo dalla zona giorno dove troviamo un meraviglioso soggiorno ampio, la cucina vista, dotata di tutti gli etrodomestici, il piano a gas, zona pranzo e le due uscite sul balcone. Eccoci sul balcone, molto spazioso, piacevole, ci si può mettere anche un tavolo, si può pranzare, si può cenare, sono presenti le veneziane, così da avere un po' di intimità e neanche la luce troppo forte del sole, perché qui batte il sole ed è molto luminoso in un appartamento e tra l'altro è presente anche un comodo ripostiglio direttamente sul balcone. All'ingresso tra l'altro è presente anche un comodissimo guardaroba. Proseguendo, nella zona notte troviamo la camera padronale, con una meravigliosa cabina armadio, è presente anche la lavanderia, il bagno ha sia la vasca che il box doccia ed è chiaramente finestrato. La seconda camera, che viene utilizzata attualmente come studio, ed ha anch'essa un balcone. Vuoi conoscere i prezzi di vendita di questo immobile? Vai sul nostro sito www.capitaniimmobiliare.it e scoprilo. Alla prossima!